Buongiorno a tutti, sono Luigi Aracus e per vita e benvenuti a questo nuovo video. Ora vi farò vedere l'ultima parte della guida riguardante C13, video registrato un po' di tempo dopo le altre 4 parti, dato che purtroppo nel JAP gli eventi si accavallano un pochino troppo, quindi sono stato un attimo impegnato a registrare le altre. Avevamo affrontato nell'ultimo video C14, come riuscire a trovarlo, adesso andremo ad affrontare le ultime medaglie necessarie, a finire i 5 pezzi per avere C13 a UR, ovvero le medaglie di C15. C15 come C14 può essere trovato unicamente in uno stage, per l'esattezza nel tredicesimo mondo, terzo stage, difficoltà Z-Hard. La difficoltà di questo stage è davvero bassa, anche se a Z-Hard dovreste riuscire a farlo con team anche senza UR, al massimo faticate leggermente, ma davvero leggermente. Come team consigliato c'è un full fisico, prendiamo Majin Bu unicamente perché è l'unico fisico che trovo, vediamo un attimo, c'è già un full fisico, ecco qua, questo qua è già un team più forte di quanto serve per finire lo stage. Chi andremo a incontrare in questo stage? Pan, PanGT. La nostra cara Pan, come dicevo, è facile, non state a smadunnarvi, eccola là. Andiamo a fare, stage non particolarmente pesante, non ci sono boss in mezzo, abbastanza calmo e tranquillo, anche la lunghezza come vedete non è lungo, cercate di subire solo meno danni possibili durante la strada se non avete un team con molti HP, perché comunque possono non dar fastidio ai danni. Vi ricordo che il dropparete delle medaglie purtroppo non è al 100%, però dato che lo stage è comunque facile e non richiede chissà quanta stamina né altro, non è troppo snervante. Trovare una medaglia ogni tipo 2 run è la media, poi può succedervi naturalmente di non trovarne nessuna per 10 run o di trovarle per 20 run di seguito. L'RNG purtroppo la fa da padrone. Pan, vi dico subito che non ha nulla di speciale, unica cosa, quando lancia la special e la lancia abbastanza spesso, crocca quasi sicuramente il personaggio che colpisce. Ergo, nel caso sia qua ad attaccare prima di tutti, mettete sempre dopo di lei il PG con meno potenza offensiva. Questo team mettere io ho fatto Gotenks o sto tizio qua di cui il nome non lo riesco a pronunciare. Brutta carta questa. Brutta, brutta, brutta. Potere che poteva servire, ma è stato fatto abbastanza male. Ne parleremo quando uscirà l'evento Heroes vs Health, Hero Edition, che di sicuro dovremo andarne a parlare di lui, dato che c'è anche da farmarlo. Eccoci qua, ormai siamo arrivati da Pan. Eccoci qua, andiamo a farla piangere e tornare a casa. Stavo chiudendo una pagina che mi dava qualche problema. Eccoci qua. Nostra cara panna. Come ho detto è abbastanza semplice, come difficoltà è paragonabile a quella che abbiamo avuto per battereci, no, per ottenere le medaglie di Goku. Eccoci, mi sa che Puan potrebbe lasciarci abbastanza prima di quanto credesse. Non so se Puan regge questo tuono, per farvi capire. Non dovrebbe avere tantissimi HP da quello che ricordo. Vediamo subito. Adesso questo attacco dovrebbe fare dai 70.000 in su. Capiamo abbastanza in fretta quanti HP ha. Vanta sui 80k di HP. Nulla in pratica. Ecco fatto, ho già finito. Come ho detto, livello molto facile, veloce. Senza praticamente alcuna difficoltà se avete un team minimamente buono di tipologia fisica. Abbiamo anche trovato la medaglia. Quindi per una volta ci è andata anche bene. E direi che con questo abbiamo finito la guida C13. Spero vi sia stata utile. Come vi ricordo per le medaglie di 19-20 e Goku ci sono vari stage possibili. Io vi ho consigliato i più rapidi e veloci. Per 14-15 purtroppo è l'unico stage. Infatti sono quelli che avete visto. Comunque in fin dei conti non è tanto difficile da ottenere. Sono un po' tedioso. Vi ripeto, fatelo quando c'è l'ex per 2. Non abbiate fretta. Non è così buono come PG da dover per forza star là e impazzire. Detto questo vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a commentare qui sotto nella sezione commenti. O di andare anche nei vari gruppi linkati in descrizione. Detto questo vi auguro una buona giornata. Alla prossima!